Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Oggi andremo a provare questo Fiano, vino pugliese. Fiano è la tipologia di uva, il vigneto è da castello. Allora, profumo delicato, caratteristico, fruttato, colore paglierino, più o meno chiaro ed è abbastanza chiaro. Il vitigno è Fiano, quindi è la tipologia di vino ideale, con antipasti leggeri, pesce, crostacei ed è ottimo aperitivo. E la maggior parte dei vini che si abbinano con i crostacei, vuoi perché là c'è la sapidità del mare, vuoi perché là c'è la mineralità della terra, si sposano benissimo anche col tartufo. Ma adesso andiamo a fare la prova olfattiva e vediamo se la nostra etichetta dice il vero. Allora, al naso la prima cosa che mi arriva è quell'odore di minerale, quell'odore di roccia, che è veramente buono. Accompagnato una nota fruttata, ma di frutta a polpa bianca. Cioè, sento pesca. Sento la pesca, quella col pelo. La montagnola. È leggermente floreale, tipo di Bucanvillo o Gelsomino. Andiamola a provare. Allora, in bocca è un vino fresco, va sullo strutturato, non è dolce, ma comunque si fa apprezzare per questa sua nota molto mineraria. Sa molto di roccia, sa molto di bosco, con quelle note anche di frutta, di pesca. Io sento molto la pesca e anche la pera, che si accompagnano bene a questo piatto. È un vino che mi piace per la sua delicatezza, ma nello stesso tempo per la sua struttura, perché comunque si fa sentire. Le note aromatiche salgono. Non ha note dolci, non è un vino dolce. È veramente buono. È delicato, ma non troppo. E quella che spicca di più è proprio questa nota minerale che vi ripulisce la bocca, si accompagna bene al tartufo. Quindi ragazzi, se avete un antipasto di mare, se avete dei crostacei, se avete dei piatti al tartufo, questo vino è la morte sua. Ci sta veramente bene. Fiano di Puglia, del vitigno da Castello. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi alla Zisa TV. E con l'ultimo sorso di questo Fiano io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.